Abbiamo bisogno di un partito fatto da iscritti, militanti, simpatizzanti, cittadini e non un partito di eletti. Le decisioni devono essere prese con un percorso parallelo partecipativo. E la linea politica annunciata da Riccardo Tonti Bandini che durante una conferenza stampa ha spiegato le ragioni della sua candidatura alla segreteria del PD per futuro democratico. Bandini, 40 anni, docente all'Accademia di Belle Arti di Urbino, si contende la guida del partito fanese con Tommaso Della Dora, candidato di IDEM. Al congresso cittadino, in programma dal 25 novembre al 12 dicembre, verranno rinnovati gli organismi in vista delle elezioni comunali 2024. I motivi sono diversi. Diciamo che quelli principali sono quelli di cercare di rinnovare questo partito, il nostro partito democratico di Fano, per cambiare la prassi politica. Insieme tutto al gruppo di futuro democratico abbiamo sentito l'esigenza proprio di metterci in gioco per provare a cambiare, a rinnovare il partito, specialmente dopo, come sappiamo tutti, l'esito delle ultime elezioni regionali. La Commissione, ha spiegato Bandini, sta organizzando il calendario degli appuntamenti che si svolgeranno nei vari circoli della città. Intanto si lavora su una sinistra ampia, civica e riformista, con il coinvolgimento di Azione e dei pentastellati. Dobbiamo allargare il campo all'interno dei confini del centro-sinistra. Secondo noi è il modello letta, è il modello vincente, lo abbiamo visto le ultime amministrative, dove il centro-sinistra è andato unito, abbiamo vinto ovunque, anche nel nostro territorio, nella nostra provincia. Siamo contro assolutamente il modello fossombrone, dove tutti dentro per fare qualcosa. La nostra peculiarità, il nostro primo lavoro sarà quello di riconsolidare tutti i legami con i principali protagonisti della coalizione che governa Fano adesso. Ma io penso che i tempi sono maturi anche per iniziare a relazionarci con il Movimento 5 Stelle, perché potremo scoprire tante cose in comune.